Il lato oscuro dietro la corsa all'oro del 1849. Quando i cercatori d'oro partirono alla ricerca di fortuna, invasero territori non di loro proprietà. I nativi americani furono sfrattati dalle loro proprietà, spesso catturati e messi al lavoro forzato. I conflitti erano inevitabili e moltissimi nativi americani persero la vita per questo processo di arricchimento altrui.